Ogni mattina in un piccolo paese Un commerciante si sveglia e sa che dovrà fare i conti con la solita domanda Mi fai lo sconto? Ogni mattina da qualche parte del mondo Un possibile cliente si sveglia e deciderà in che negozio andare a chiedere lo sconto Non importa se tu vendi articoli a 5 o 150 euro Stai sicuro che lo sconto lo chiederanno sempre? Guardi ma che cazzo? Oh mio dio! 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 Che diavolo! Realizzi? paintedi, ma che cazzo adalah Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Oh la, orla, 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 orla!